Nell'ambito di Rise on the Movie, la rassegna cinematografica per gli studenti delle scuole superiori, promossa dal Comitato regionale sui diritti umani con Agi Scuola, il 7 novembre a Torino e nelle sale cinematografiche di tutti i capoluoghi di provincia piemontesi, è stato proiettato il film Fuoco a mare di Gianfranco Rosi. La pellicola è ambientata a Lampedusa e racconta i diversi destini di chi sull'isola vive da sempre, come Samuele, 12 anni, che va a scuola, ama tirare con la fionda e andare a caccia e chi ci arriva per andare altrove in cerca di libertà. Nella serata del 7 il film è stato proiettato al Cinema Massimo di Torino con la presenza dei vertici istituzionali, del Comitato regionale per i diritti umani e di esperti che hanno riflettuto sui contenuti del film.